Ciao a tutti ragazzi, sono qui per presentarvi il prossimo video, sarà un video di Power Yoga, chi pratica come Alive facciamo questa lezione nelle ore di Functional Yoga, che è un po' la base, la propedeutica per il Functional Yoga e quindi niente, se vi va di provare questa lezione, per chi magari non l'ha mai fatta, vediamo di cosa si tratta, quindi ci prepariamo con un tappetino e ci portiamo, come vi faccio vedere io, all'inizio del tappetino per la fase di riscaldamento. Ci portiamo con i piedi paralleli, spero riusciate a vedere bene, le mani sono lungo i fianchi, sulle cosce, spalle lontane dalle orecchie, piedi ben distanti come le vostre anche, le spalle sono allineate, le anche sono allineate. Inspiro, porto le mani che si toccano sopra la testa, le guardo, espiro, porto le mani sulle cosce, gambe semipiegate, inspiro, apro il tetto, spalle lontane dalle orecchie, espiro, arrotondo la colonna, ristucco l'ombelico. Inspiro, apro il petto, guardo avanti, espiro il busto, scende giù, gomiti ai lati del busto. Inspiro, apro, guardo avanti, espiro, arrotondo la colonna, inspiro, apro bene il petto, spalle lontane dalle orecchie, espiro di nuovo, lascio andare. Lo facciamo ancora una volta, inspiro, apro il petto, espiro, arrotondo, ristucco l'ombelico, coda tra le gambe, inspiro, apro il petto, espiro, scendo, distendo le mie gambe, porto le mani ai lati dei piedi e resto qui, tre respiri in uttanasana. Uno, due, tre, inspiro, guardo avanti, espando il petto, ci portiamo con le ginocchia destra e sinistra in appoggio, in quadrupedia. Le mani sono bene sotto le spalle, le ginocchia sono bene sotto le anche, e la distanza è quella delle tue anche. Inspiro, apro il petto, il mento sale, espiro, risucchia l'ombelico, il mento chiude. Inspiro, apro il petto, il mento sale, espiro, risucchia l'ombelico, coda tra le gambe. E ancora una volta, inspiro, apro il petto, il mento sale, espiro, risucchia l'ombelico, quarto, l'ombelico, il mento viene al petto. Da qui, inspiro e scendo in balasana, porto i glutei sui talloni, mani avanti, fronte a terra. Ancora per due volte, inspira ed espira, inspira ed espira, porto i glutei sui talloni, la fronte viene in appoggio a terra, restiamo qua per tre respiri. Uno, due, tre. Inspiro, gatto, apro il petto, poggio i piedi, andiamo a salire, cani a faccia in giù. I talloni sono ben ancorati a terra, il sacro sale verso l'alto e resto ancora qua per tre respiri. Uno, le spalle sono lontane dalle orecchie. Due, le anche sono ben allineate, così come le spalle e i piedi. Tre, inspiro, cammino con i piedi, mi porto fra le mani, apro il petto, guardo avanti, espiro, porto la fronte alle ginocchia. Inspiro, fermo all'anca, porto le mani che si toccano sopra la testa, espiro, samastitthi. Andiamo avanti. Inspiro, porto le mani che si toccano sopra la testa, espiro, scendo con le mani ai lati dei piedi, uttanasana. Inspiro, guardo avanti, espiro, porto i piedi destra, sinistra, gambe tese, posizione da piegamento e resto tre respiri. Le mani sono bene sotto le tue spalle. Uno, i talloni spingono dietro. Due, risucchia bene l'ombelico e quattro dita sotto l'ombelico. Tre, scendo lentamente con i gomiti stretti vicino al busto e mi porto con la mano destra e la mano sinistra in avanti, posizione della spinge. Inspiro, apro bene il petto, il cuore, la gola, espiro, scendo. Ancora una volta, inspiro, apro bene il petto, il cuore, la gola ed espiro, scendo. Inspiro, apro il petto ed espiro, scendo. Portiamo le mani sotto le spalle e andiamo a fare il cobra. Abbraccia tese, spingo avanti bene le anche, spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, uno, ed espiro, scendo. Inspiro, due, attendo il petto, il cuore, la gola ed espiro, scendo. Inspiro, tre, ed espiro, scendo. Inspiro, faccio fiorità con le braccia, passo dal gatto, ristucchio l'ombelico, scendo in balasana e resta tre respiri. Uno, la fronte bene appoggio a terra. Due, tre, torno nel gatto, inspiro, cane a faccia in giù, mi porti il tallone destro in appoggio mentre pieghi la gamba sinistra e resto tre respiri qua. Uno, due, inspiro, spiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, espiro, balzo, piegamento. Chaturanga, cane a faccia in su, inspira, cane a faccia in giù. Sollevo la gamba destra, piede a martello, le anche sono allineate, resta qui tre respiri. Uno, due, tre, piede destro, inspirando, lo porto avanti, appoggio il ginocchio sinistro e porto in avanti il mio bacino. Mani che si toccano sopra la testa a preghiera. Uno, le anche sono allineate, le spalle sono allineate. Due, tieni le spalle lontane dalle orecchie. Tre, apro le mani, inspiro, appoggio le mani a terra, sale la gamba sinistra, tesa dietro, il piede in appoggio. Mi preparo per l'affondo due. Braccia parallele, palmi delle mani che si guardano, il tuo ginocchio destro non supera la punta del piede destro. Due, tre, inspiro, respiro, scendo, posizione da piegamento, inspiro, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Sollevo la gamba a sinistra, piede a martello. Uno, due, tre, inspiro, piede sinistro, porto avanti. Mi preparo per l'affondo uno, le anche sono allineate, mani a preghiera, spalle lontane dalle orecchie. Resta uno, due, tre, apro le mani, inspiro, appoggio le mani ai lati del piede sinistro, salgo, protesa del busto in avanti, palmi delle mani che si guardano. Il mio ginocchio sinistro non supera mai la punta del piede sinistro. Uno, due, tre, inspiro, porto le mani, espiro, scendo, questo ne dà piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Mi resti cinque respiri qua. I talloni sono ben radicati a terra, le mani, aprite bene le città delle mani. Due, risucchia bene l'ombelico e quattro dito sotto. Apri bene il petto, il cuore, la gola. Tre, l'aria entra dal naso, esce dal naso. Quattro, cinque, balto, piedi uniti con le mani, fronte alle ginocchia, ferma, allanca, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, stramastiti. Ci prepariamo per l'affondo, quattro. Piedi uniti, talloni unite, cosci unite. Inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, balzo, piegamento, ciaturanda, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Tallone sinistro ruota all'interno, sole e la gamba destra, appunto allineata, ballerina. Espirando, passo destro, grande avanti, la pianta sinistra del piede dietro è intraruotata, mani a preghiera, apro il petto, resto, tre, respiro. Uno, due, tre. Apro le mani, inspiro, scendo, posizione da piegamento, inspiro, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Tallone destro ruota all'interno, sinistra sale, inspira, passo grande. Affondo quattro, guerriero uno. Il fianco destro spinge in avanti, mio ginocchio sinistro non farà mai la punta del piede sinistro, resto. Uno, due, tre. Apro le mani, inspiro, scendo, posizione da piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Resta tre respiri. Uno, due, tre. Balzo, piedi uniti tra le mani, fronti alle ginocchia, inspiro, perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa, siamo aspiti. Ci prepariamo per Surinamaskara B. La fondo quattro ci porta a Surinamaskara B, saluto al sole B. Piedi uniti, tagli uniti e cosci dietro, inspira, mani che si toccano sopra la testa, espira, mani ai lati dei piedi, inspira, espando il petto, guardo avanti, basso, spiegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Tallone sinistro ruota all'interno, sale la gamba destra e inspira, punta ballerina, passo grande destro, mani a preghiera, affondo, quattro, guerriero uno, mi porto per scendere con le mani ai lati dei piedi, piegamento, inspiro, cani a faccia in giù, tallone destro ruota all'interno, sinistra sale e inspira, passo grande, affondo quattro, guerriero uno, un altro respiro, scendo, spiegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, resta tre respiri, prova ad aprire i talloni leggermente verso l'esterno e piego leggermente le gambe, balzo e riuniti tra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, samastiti, bene, andiamo avanti con la sequenza di stabilitazione, inspira, mani che si toccano sopra la testa, espira, mani ai lati dei piedi, inspira, espando il petto, espira, piegamento, chaturanga, cane a faccia in su, non toccare con l'addome e con le ginocchia a terra, cane a faccia in giù, torno nel gatto, porto tutto il peso sulla mano destra, il ginocchio destro, ruoto, braccio sinistro che sale e si porta in avanti, guardo la mia mano sinistra, uno, due, tre, torno con le mani in appoggio, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, torno nel gatto e vado a sollevare la gamba destra ed il braccio sinistro, piede destro a martello, braccio sinistro col pollice a sinistro verso l'alto, lo sguardo al pavimento, uno, spalle lontane dalle orecchie, due, tre, torno, piegamento, inspiro, cane a faccia in su e sviro, cane a faccia in giù, torno ancora nel gatto e buttiamo tutto il peso sulla mano sinistra e ginocchio sinistro, apro il braccio destro, lo guardo e porto il braccio in avanti, la testa e sotto la spalla, lo sguardo alla tua mano destra, uno, due, tre, torno, posizione da piegamento, inspiro, cane a faccia in su e spiro, cane a faccia in giù, torno nella quadrupedia, mi sollevi questa volta la gamba a sinistra ed il braccio destro, piede sinistro a martello, pollice destro verso l'alto, spalle lontane dalle orecchie, uno, due, tre, torno, posizione da piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, mi dai tre respiri, lenti e profondi dal naso, uno, due, ombelico risucchiato e quattro dita sotto, tre, balzo, piedi fra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro, perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa, espiro, famastiti, andiamo avanti con l'affondo uno e l'affondo due, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guardo avanti, espiro, balzo, piegamento, chaturanga, cane a faccia in su, inspira, cane a faccia in giù, sollevo la gamba destra, piede a martello, le anche sono allineate, resta qui tre respiri, uno, due, tre, piede destro, inspirando, lo porto avanti, appoggio il ginocchio sinistro e porto in avanti il mio bacino, mani che si toccano sopra la testa, preghiera, uno, le anche sono allineate, le spalle sono allineate, due, tieni le spalle lontane dalle orecchie, tre, apro le mani, inspiro, appoggio le mani a terra, sale la gamba sinistra, tesa dietro, il piede in appoggio, mi preparo per l'affondo due, braccia parallele, palmi delle mani che si guardano, il tuo ginocchio destro non supera la punta del piede destro, due, tre, inspiro, respiro, scendo, posizione da piegamento, inspiro, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, sollevo la gamba sinistra, piede a martello, uno, due, tre, inspiro, piede sinistro, porto avanti, mi preparo per l'affondo uno, le anche sono allineate, mani a preghiera, spalle lontane dalle orecchie, resta, uno, due, tre, apro le mani, inspiro, appoggio le mani ai lati del piede sinistro, salgo, protesa del busto in avanti, palmi delle mani che si guardano, il mio ginocchio sinistro non supera mai la punta del piede sinistro, uno, due, tre, inspiro, guardo le mani, espiro, scendo, posizione da piegamento, cane a faccia in su, taglia a faccia in giù, mi resti, cinque, respiri qua, i talloni sono ben radicati a terra, le mani, aprite bene le dita delle mani, due, risucchia bene l'ombelico e quattro dita sotto, apri bene il petto, il cuore, la gola, tre, l'aria entra dal naso, esce dal naso, quattro, cinque, balzo, piedi uniti fra le mani, fronte alle ginocchia, fermo all'anca, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, samastiti, ci prepariamo per l'affondo, due, tre, balzo, piedi uniti fra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro, fermo all'anca, mani che si toccano sopra la testa, espira, samastiti, inspira, espira, inspira, guarda avanti, espira, piegamento, cane a faccia in su, espira, cane a faccia in giù, tallone sinistro ruota dentro, destra sale, inspira, gamba tesa, a fondo, quattro, guerriero uno, guerriero due, tira pradasana due, il mio ginocchio destro non supera mai la punta del piede destro, le braccia sono allineate, guarda avanti, distendo la mia gamba, mi preparo per utita tricolata, fianco sinistro spingere dietro, porto la mano sulla tibia destra, resto, tre respiri, uno, due, tre, torno, vira pradasana, mi preparo per paschua con adana A, inspiro, la mano destra o sulla mattonella o dietro al piede destro, guarda la tua mano sinistra, la testa è sotto la spalla sinistra, uno, due, tre, torno, vira pradasana, inspiro, appoggio il mio ginocchio sinistro, porto la mano destra sulla coscia destra e braccio sinistro che sale, apro il petto, inspiro, entro in paschua con adana B, gomito in appoggio, le mani a preghiera, se puoi, prova a distendere la gamba sinistra dietro, guardo verso l'alto, uno, due, tre, porto le mani ai lati del piede destro, inspiro, guardo avanti, piede destro dietro, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone destro vuoto all'interno, sinistra sale, inspira, passo grande, passo da, guerriero uno, inspiro, guerriero due, allineo le spalle, il mio ginocchio sinistro non supera mai la punta del piede e resto, guardo avanti, sei un guerriero, vestendo, fate due le gambe, spingo il fianco destro dietro e mi porto in titta triconasma, tre angoli uguali col mio corpo, uno, due, tre, torno, virabra dasana, resta, inspira e mi preparo per paschua con asana, mano ai lato, dietro al piede sinistro guardo la mia mano destra, la testa è sotto la tua spalla destra, uno, due, tre, respiri, torno, virabra dasana, appoggio il mio ginocchio destro, inspiro, mano sinistra sulla coscia sinistra, apro bene il petto, entro in paschua con asana B, gomito destro e appoggio, mani a preghiera, distendo, se riesci, la gamba destra, uno, due, tre, mani ai lati del piede, inspira e guarda avanti, piegamento, cani a faccia in su, cani a faccia in giù, resta cinque respiri, uno, due, tre, balzo, piedi uniti tra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro, pernallanka, mani che si toccano sopra la testa, espiro, samastitri. Concludiamo la prima parte di questa lezione di power yoga, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guarda avanti, espiro, basso, piegamento, cani a faccia in su, espiro, cani a faccia in giù, tallone sinistro ruota all'interno, spalle la gamba destra tesa, in fila, passo, passiamo, affondo, quattro, il mio guerriero uno, di la prada sana due, distendo, utitta trikonasa nel fianco sinistro, spinge dietro la mano destra sulla tiglia, guardo la mia mano sinistra, resta tre respiri, uno, due, tre, la mano sinistra scende sulla tiglia, avvicino il piede sinistro, mi preparo con la mia mattonella, avvicino il piede destro oppure porto la mano a terra, mano destra sul fianco destro, i piedi sono allineati, prova a distendere il braccio destro verso l'alto, guardo la mano destra, uno, le anche sono allineate, apri bene nel petto, il cuore, i polmoni, due, tre, torno, mani e la piede del piede destro, porti la fronte al ginocchio destro, paspatanasana, resta tre respiri, uno, due, se te la senti, leggermente semipiegata la gamba destra, sollevi tutto il peso sul piede destro, solleva la gamba sinistra anche allineate, uno, due, tre, scendo, apri, posizione da piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone per scendere con le mani e la piede del piede, piegamento, inspiro, cane a faccia in giù, tallone destro ruota all'interno, sinistra sale, inspira, passo grande, affondo, quattro, guerriero uno, un solo respiro, scendo, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, resta tre respiri, prova ad aprire i talloni leggermente verso l'esterno, spalle lontane dalle orecchie, uno, due, tre, balzo, piedi uniti fra le mani, fronte alle ginocchia, inspira, perno all'anca, mani che si toccano sopra la testa, espira, samastiti, inspira, espira, inspira, guarda avanti, espira, piegamento, cane a faccia in su, espira, cane a faccia in giù, tallone sinistro ruota dentro, destra sale, inspira, gamba tesa, affondo, quattro, guerriero uno, guerriero due, tira pradasana due, il mio ginocchio destro non supera mai, la punta del piede destro, le braccia sono allineate, guarda avanti, distendo la mia gamba, mi preparo per utita tricolata, fianco sinistro spinge dietro, porto la mano sulla tibia destra, vesto, tre respiri, uno, due, tre, torno, vira pradasana, mi preparo per paschua con asana a, inspiro, la mano destra o sulla mattonella o dietro al piede destro, guarda la tua mano sinistra, la testa è sotto la spalla sinistra, uno, due, tre, torno, vira pradasana, inspiro, appoggio il mio ginocchio sinistro, porto la mano destra sulla coscia destra, il braccio sinistro che sale, apro il petto, inspiro, entro in paschua con asana B, gomito in appoggio, le mani a preghiera, se puoi, prova a distendere la gamba sinistra dietro, guarda un brazzo l'alto, uno, due, tre, porto le mani ai lati del piede destro, inspiro, guarda avanti, piede destro dietro, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone destro ruota all'interno, sinistra sale, inspira, passo grande, passo da, guerriero uno, inspiro, guerriero due, allineo le spalle, il mio ginocchio sinistro non supera mai la punta del piede e resto, guardo avanti, sei un guerriero, distendo tutte le gambe, spingo il fianco destro dietro e mi porto in Titta Trikonasana, tre angoli uguali col mio corpo, uno, due, tre, torno, virabra dasana, resta, inspira e mi preparo per Paschua Konasana, mano ai lato, dietro al piede sinistro guardo la mia mano destra, la testa è sotto la tua spada destra, uno, due, tre, respiri, torno, virabra dasana, appoggio il mio ginocchio destro, inspiro, mano sinistra sulla coscia sinistra, apro bene il petto, entro in Paschua Konasana B, gomito destro, io appoggio, mani a feriera, distendo, se riesci, la gamba destra, uno, due, tre, mani ai lati del piede, inspira, guarda avanti, piegamento, cani a faccia in su, cani a faccia in giù, resta cinque respiri, uno, due, tre, balzo, piedi uniti tra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro, pernallanca, mani che si toccano sopra la testa, espiro, samastitri, concludiamo la prima parte di questa lezione di Power Yoga, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guarda avanti, espiro, basso, piegamento, cani a faccia in su, espiro, cani a faccia in giù, tallone sinistro, ruota all'interno, sale la gamba destra, tesa, inspira, passo, passiamo, affondo, quattro, mio guerriero, uno, di la prada sana, due, distendo, utitta, tricconasa, nel fianco sinistro, spinge dietro la mano destra sulla tiglia, guardo la mia mano sinistra, resta tre respiri, uno, due, tre, la mano sinistra scende sulla tiglia, avvicino il piede sinistro, mi preparo con la mia mattonella, avvicino il piede destro oppure porto la mano a terra, mano destra sul fianco destro, i piedi sono allineati, prova a distendere il braccio destro verso l'alto, guardo la mano destra, uno, le anche sono allineate, apri bene il petto, il cuore, i polmoni, due, tre, torno, mani e la piede del piede destro, uno, due, tre, respiri, torno, mi labbra d'atana, appoggio il mio ginocchio destro, inspiro, mano sinistra sulla coscia sinistra, apro bene il petto, entro in fascia con asana B, gomito destro in appoggio, mani a preghiera, distendo, se riesce, la gamba destra, uno, due, tre, mani ai lati del piede, inspira, guarda avanti, piegamento, cani a faccia in su, cani a faccia in giù, resta cinque respiri, uno, due, tre, balzo, piedi di piedi tra le mani, fronte alle ginocchia, inspiro, perna all'anca, mani che si toccano sopra la testa, espiro, samastiti. Concludiamo la prima parte di questa lezione di power yoga, inspiro, mani che si toccano sopra la testa, espiro, mani ai lati dei piedi, inspiro, guarda avanti, espiro, basso, piegamento, cani a faccia in su, espiro, cani a faccia in giù, tallone sinistro, ruota all'interno, sulle la gamba destra tesa, inspira, passo, passiamo, affondo, quattro, il mio guerriero uno, viva pratasana due, distendo, utitta, tricconasa, nel fianco sinistro spinge dietro la mano destra sulla tiglia, guardo la mia mano sinistra, resta tre respiri, uno, due, tre, la mano sinistra scende sulla tiglia, avvicino il piede sinistro, mi preparo con la mia mattonella, avvicino il piede destro oppure porto la mano a terra, mano destra sul fianco destro, i piedi sono allineati, prova a distendere il braccio destro verso l'alto, guardo la mano destra, uno, le anche sono allineate, apri bene il petto, il cuore, i polmoni, due, tre, torno, mani ai lati del piede destro, porti la fronte al ginocchio destro, paspatanasana, resta tre respiri, uno, due, se te la senti, leggermente semipiegata la gamba destra, sollevi tutto il peso sul piede destro, solleva la gamba sinistra, anche allineate, uno, due, tre, scendo, apri, porti finito da piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, tallone destro intraruotato, sale la gamba sinistra e inspira, passo grande, passo dal guerriero 1 al fondo 4, guerriero 2, guardo avanti il mio ginocchio sinistro, non supera mai la punta del piede sinistro, distendo, uttita trikonasana, tre angoli perfetti col mio corpo, guardo la mano destra, uno, palmo della mano, rivolto verso l'interno, uno, due, tre, la mano destra scende, avvicino il piede destro, intrasvuoto la mano sulla mattonella, oppure a terra, mano sinistra sul fianco sinistro, vado a ruotare il mio busto, provo a distendere il braccio sinistro verso l'alto, 1, 2, 3, torno, mani ai lati del piede sinistro, fronte al ginocchio, se puoi, tieni tutte e due le gambe tese, fronte al ginocchio, piede destro intraruotato, la distanza è inferiore rispetto a prima, quindi il nostro piede destro è più vicino, 1, 2, 3, chi può, chi se la sente, leggermente semipiegata la gamba sinistra, solleviamo la gamba destra, 1, 2, 3, scendo, apro, respiro, guardo avanti, posizione da piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, 1, apri bene le dita delle mani, le dita dei piedi, 2, fammi dei respiri lenti e profondi dal naso, 3, il sacro sale verso l'alto, i talloni sono ben ancorati a terra, 4, spalle lontane dalle orecchie, 5, balzo, piedi uniti fra le mani, fronte alle ginocchia, resta 3 respiri, 1, 2, 3, salgo, in uptatana, la sedia, gambe semipiegate, maniche si toccano, apri bene il petto, il cuore e la gola, 1, 2, 3, distendo il corpo, braccia lungo i fianchi, il samasiti. Bene, questa è la prima parte della lezione di Power Yoga e vi aspetto subito per la seconda parte delle asana a terra, sempre nella mia lezione di Power Yoga. Ciao, a dopo!